Il dopo pupillo per il centro-sinistra si chiama Francesco Menna. Infatti sarà il rieletto primo cittadino di Vasto, il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Menna sarà appoggiato da due liste civiche, insieme per la provincia e Chieti-Provincia Verde. Nelle elezioni di secondo livello, del 18 dicembre, a cui sono chiamati gli amministratori dei 104 comuni della provincia, Menna sfiderà Filippo Paolini, fresco di elezione, come sindaco di Lanciano. Diciamo che è una candidatura che nasce dal dialogo, dal confronto, dalla sintesi con i sindaci, con i territori, con gli equilibri territoriali. Tante le sfide da affrontare come PNRR, edilizia scolastica e viabilità, dove spiccano la via verde Costa dei Trabocchi e le vecchie stazioni ferroviarie, oltre alla questione non più prorogabile della crisi idrica. La prima cosa è rendere di ogni comune un fascicolo, un fascicolo fatto di fatti, di problemi, di questioni, di quesiti, e operare su ciascun comune, quindi realizzare 104 fascicoli per 104 comuni per 104 questioni. La legge di bilancio reintroduce lo stipendio abolito cinque anni fa della legge del Rio, che aveva imposto pesanti tagli ai bilanci degli enti provinciali. C'è un ricominciamento, una rinascita nella funzione, nell'istituzione dell'ente provincia. Rispetto a questo dobbiamo essere bravi, pronti, preparati, competenti per accertare, realizzare, programmare e quindi fare il bene della provincia di Ghieri.